Siamo qui, si avvicinano le feste, ci mettiamo un bel cappuccio, fa freddo, freddissimo, e siamo qui che cantiamo sotto la pioggia, i più fortunati sotto la neve, noi sotto la pioggia e cantiamo, e magari balliamo sotto la pioggia, che cosa possiamo fare altrimenti sotto la pioggia ci lamentiamo? Cosa fate voi sotto la pioggia tutte le mattine quando il traffico impazza e voi dovete guidare? Abitate a Venezia, beati voi, dovete camminare o prendere, no, dovete camminare, camminare, camminare è importante perché di questi tempi il cammino è importante, il percorso o il senso che diamo al percorso che facciamo cantando sotto la pioggia, ma non c'è sempre bisogno di lamentarsi, possiamo sempre pensare di emigrare, e dove emigrare stessero in America, vi ricordate cosa diceva Giorgio Gabba, non c'è popolo più stupido degli americani, hanno votato, hanno votato, è lì che vi volevo, ma non preoccupatevi, avete sempre una possibilità di uscita, sì, proprio quella lì, Natale si sta avvicinando, ah, sì, sì, Gesù Cristo Superstar, affidatevi a Lui, costa, eh, costa, costa almeno una vita, se credete nel paradiso, costa almeno due vite, se credete nell'inferno, costa infinite vite, se per voi la vita è qualche cosa di più importante, che cosa c'è di più importante della vita, che cosa c'è di più importante della vita, è Natale ragazzi, sappiate cosa significa, è solo il 25 dicembre, poi c'è il 26, ma prima c'è il 24, dopo ancora c'è il 27, ma prima c'è il 23, poi il 28, il 22, il 29 e il 21, il 30 e il 20 e poi c'è anche il 31, ah, volevo dire buon anno, buon anno nuovo, se credete che sia nuovo, fatelo nuovo, fatelo a pezzi, giorno per giorno, non cedete mai, 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 ma ogni tanto si serve, e vabbè faccio, ma ci sono sempre figli di mezzo, anche i nonni.